Ritornano i pescatori della domenica, sempre più certificati, sempre più strampalati. Ottenuta la certificazione europea dovranno ora sopravvivere a nuove sfide, sempre più complesse. Sopravvivere al regalo di compleanno. Paola organizza una vacanza di pesca assieme al sommo Valerio Morini, che grazie al mitico Luca Quintavalla permetteranno ad Alex di catturare finalmente il suo primo bus. Sopravvivere all'uscita in barca organizzata. Alex e Marche con un'irresistibile voglia di sgombro partano alla merced della gita in barca organizzata, dove non prenderanno neanche uno sgombro, ma riusciranno a trasformare un cappotto in una giornata epica. Sopravvivere all'autunno. Riapre la stagione di caccia al cefalo e i nostri goodi tornano a pescare a Gudo Method, una tecnica diversa e un punto di vista nuovo che ci farà scoprire cosa succede sott'acqua. Sopravvivere all'inverno. Alex e Enrico, il guadinatore ufficiale della Gudo Terror, si concedono una giornata di relax e divertimento pescando a Bolognese in passata, una gara all'ultimo ciprinide. Sopravvivere ai cefalopodi. Freddo e maltempo non guasteranno le domeniche dei nostri goodi. Egi, tataki, seppie e calamari. Una battuta di pesca dalla barca per imparare la prima regola della pesca ai cefalopodi. Non si scherza con i cefalopodi. Sopravvivere all'effetto serra. Un nuovo visitatore raggiunge le acque del Friuli e una volta tanto capita anche a noi di trovarci al momento giusto e nel posto giusto, ma come sempre impreparati e impacciati. Una nuova delirante serie, pescatori borderline, avventure strampalate, ma tanta fortuna e tante catture raccontate con la solita ironia che non può mancare nelle nostre uscite. Perché noi siamo la Gudo Terror e pescheremo qualsiasi cosa in qualsiasi sputo d'acqua ci troveremo davanti.